Viti, elementi di fissaggio, minuteria metallica, sono parti integranti di ogni prodotto. Viteria Eugania, nata nel 1974 dall'intuizione di Giuliano Guzzo, fornisce all'industria particolari a disegno e unificati per tutte le esigenze, assicurando servizi all'avanguardia, assistenza tecnica, logistica integrata. Il gruppo guidato da Viteria Eugania è un partner globale per le aziende manifatturiere. Mediante le consociate produce minuterie a disegno e con una divisione specializzata gestisce le richieste del comparto automotive e la distribuzione all'estero. La gestione della divisione automotive è particolare. L'esperienza di un team preparato e competente è garanzia di esecuzione aderente alle specifiche di progetto. Dalla selezione dei materiali al rigore dei processi, il settore richiede standard elevati per conseguire la soddisfazione del committente. Viteria Eugania è sempre accanto a chi utilizza i suoi prodotti. Il cliente può contare su un efficiente staff tecnico pronto ad affiancarsi per offrire consulenza nella scelta e nell'uso di particolari unificati, nella progettazione e realizzazione di articoli e disegno. L'ufficio tecnico trasforma in prodotti i progetti dei committenti. Personale qualificato esamina ogni anno oltre 6.000 disegni, scegliendo soluzioni realizzative razionali e garantendo il risultato del processo produttivo. Le consociate sono specializzate nella realizzazione di particolari a disegno. Frabo, nucleo originario di Viteria Eugania, si avvale di tecnologie di ultima generazione quali moderni CNC, macchine per la tornitura da filo e plurimandrini. 45.000 articoli unificati in un magazzino da 35.000 euro pallet e 40.000 contenitori, gestito con tecnologie del movimento robotizzate, capaci di 3.000 prelevi al giorno, assicurano ampiezza di gamma, efficienza e puntualità nella distribuzione. Gli ordini sono evasi in 24 ore, le urgenze in due. La qualità dei prodotti Viteria Eugania è garantita. Il livello di non conformità dei lotti è inferiore a quello pattuito. Moderne macchine selezionatrici effettuano il controllo per variabili o per carattere. Il prodotto selezionato è confessionato in linee automatizzate e sulle scatole è apposto il sigillo di sicurezza. Il controllo della qualità è affidato a un'apposita squadra di specialisti che operano in un laboratorio moderno e completamente attrezzato. Teste stesi sui materiali in ingresso assicurano forniture rispondenti ai disegni, alle norme e alle prescrizioni degli utilizzatori. L'organizzazione commerciale di Viteria Eugania è a disposizione degli utilizzatori con una doppia risorsa, il responsabile per il territorio e il corrispondente interno. Un sistema informatico proprietario condivide in rete dati e informazioni raccolti in sede, assicurando interventi puntuali e risposte veloci e precise. Viteria Eugania ha investito nello sviluppo di avanzate soluzioni per la logistica integrata, quali Kanban e Consignment Stock, sistemi che rendono la gestione delle forniture più flessibile ed economica, riducendo le scorte necessarie all'utilizzatore. Si acquisisce solo quanto effettivamente impiegato nel processo produttivo, minimizzando il circolante. L'offerta di servizi ampia, variegata, aggiornata, identifica Viteria Eugania con l'avanguardia del proprio settore e come riferimento specializzato, stabile e innovativo per tutti i partner dell'industria manifatturiera.